ciao a tutti sono sempre gerry oggi vi voglio raccontare la gita che ho fatto con la mia mamma e il mio papà a bevagna bevagna si trova nella campagna umbra in provincia di perugia e da uno splendido borgo medievale dove il tempo sembra essersi fermato la prima cosa che mi ha colpito sono le sue splendide mura pensate le hanno costruite gli antichi romani con la mamma siamo passati sopra un ponte con due torrioni laterali wow davvero sembra di entrare in un castello medievale con l'acqua che scorre sotto il ponte poi sono andato anche a vedere il vecchio lavatoio quanta acqua per un momento ho pensato che mamma mi voleva fare il bagnetto che paura pian piano siamo arrivati in piazza filippo silvestri questa è la piazza principale di bevagna dove si può ammirare il palazzo dei consoli splendido esempio di architettura medievale è stato edificato pensate nel 1270 un periodo meraviglioso per i cittadini bevanati che avevano ottenuto qualche anno prima da papa innocenzo iv l'autorizzazione ad eleggere liberamente il proprio podestà nel palazzo c'è anche il teatro torti e ci si entra dalle scale laterali nella piazza ci sono anche la chiesa di san silvestro la chiesa di san michele sempre di ragazzi pensate che questa piazza è stata anche un set cinematografico per serie tv e film d'autore che figata comunque non potevo non fare anche amicizia con i cagnolini del posto che sono stati simpaticissimi e carinissimi abbiamo girato tutte le viuzze del centro di bevagna sono veramente belle e piene di negozietti ricchi di prodotti tipici e che dire con mamma ci siamo ipnotizzati con i dolcetti al vino sagrantino da leccarsi baffi beh anche da bevagna è tutto ci vediamo in altri luoghi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti